Dopodiché, possiamo anche ricordare che i primi che hanno abusato dell'uso dei voucher sono stati proprio quelli della CGL, tant'è che ha montato una polemica pazzesca. L'ha ricordato Boeri più volte. Esatto, da un lato raccoglievano le firme, dall'altro lato erano i primi. Da Camusso a me che gli ho chiesto, mi ha risposto che sono tutte persone anziane, pensionate, che quindi per loro quello strumento è uno strumento normale che si può usare. Io credo, molto sinteticamente, che serva una legge affinché i voucher vengano utilizzati ma si ponga fine all'abuso dei voucher. In commissione lavoro con il presidente Damiano ci sono diverse proposte di legge, c'è la volontà di arrivare a una ridefinizione sull'utilizzo dei voucher ex legge Biagi del 2003, cioè l'uso dei voucher soltanto per attività lavorative, accessorie e non l'abuso totale sfrenato. Io credo che quella debba essere la strada verso la quale si deve andare. Allora, come Totti, famo sta riforma dei voucher perché è arrivato il momento.